Sindaco, oggi un'approvazione importante, abbiamo finalmente superato la prima fase del piano strategico. Abbiamo immesso 250 milioni di euro circa ai 92 comuni, risultato straordinario di visione politica, di strategia, di concretezza, di condivisione istituzionale, di coinvolgimento dei comuni. Siamo il primo caso in Italia, mi auguro che i mezzi di comunicazione diano adeguato risalto a questo obiettivo che crea più sviluppo per i nostri territori, più infrastrutture, più investimenti, più sicurezza, più difesa dell'ambiente. Poi oggi abbiamo approvato anche una delibera che mette in sicurezza la CTP, quindi il trasporto pubblico dell'area metropolitana. Vorrei ricordare anche la delibera con cui mettiamo in campo un finanziamento di circa un milione di euro per tutto il comparto verde e quindi il contrasto dei cambiamenti climatici. Insomma, un grande lavoro di squadra con risorse che vanno esclusivamente all'interesse dei territori e dei nostri abitanti.